Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. In questi giorni sono usciti diversi giocatori e in particolar modo SBC. Oggi ci andiamo a concentrare proprio su questi, infatti vi porto una bella review di Ruben Diaz Trackstars e di Aubameyang, flashback che secondo me vi interessano molto. Partiamo proprio da Pierre-Emerick Aubameyang, nella sua versione flashback, giocatore che adesso milita nell'Alcazia, quindi campionato arabo, e ci può dare una mano magari a linkare Ronaldo, Neymar, questa gente qui, anche poi ricordiamo che ci sono degli eroi molto interessanti nel campionato arabo, vedi il buon Aloha Ran che possono dare dei link, ed è un giocatore di 1,87m con 4 stelle skill e 4 di piede debole con piede preferito il destro. Per quanto riguarda le posizioni all'ATT e l'esterno destro, come posizione alternativa quindi non l'AD, attenzione a questo se lo volete sbloccare, giocatore al cui costo si aggira più o meno sui 170.000 crediti. Ma veniamo a parlare effettivamente di quello che è il rendimento di questo giocatore. Innanzitutto dal punto di vista del body type si presenta con un body type abbastanza snello, vista anche l'altezza che lo slancia tantissimo, e questo dovrebbe inoltre suggerire una certa velocità, palla al piede, velocità che però onestamente non ho riscontrato in maniera incredibile. Nonostante il 90 di accelerazione, il 96 di velocità scatto, manca il razzetto che potrebbe contribuire a migliorare la velocità di questo Bameyang, inoltre soprattutto nei cambi di direzione l'ho trovato un po' pesantino nonostante abbia il rapido come playstyle bianco, quindi questo qui è stata un po' una nota stonata su una carta che prometteva molto bene su quel punto di vista lì. Per quanto riguarda il tiro, assolutamente niente da dire, un finalizzatore nato, vede la porta sia da dentro l'area che da fuori, sono ottimi sui tiri dalla distanza sia di potenza ma soprattutto quelli con i due playstyle, innanzitutto la trivela con il playstyle bianco è un qualcosa di incredibilmente rotta con questo Bameyang, veramente le mette dentro che è una meraviglia, e anche il tiro a giro plus è un playstyle che si fa sentire tanto, sappiamo come questi due playstyle di tiro, assieme al powershot che inoltre ha anche bianco, siano praticamente il repertorio migliore al momento lì davanti per poter finalizzare, motivo per il quale questo Bameyang sotto quel profilo lì è stracompleto e come finalizzatore è perfetto. Per quanto riguarda i passaggi 80-70 fondamentalmente non è un passatore quindi non ci interessa granché, ma veniamo alle statistiche di Dribbling, vi dicevo l'81 di agilità e l'88 di reattività a mio avviso sono parametri non in linea con quella che è questa carta perché dovrebbero essere leggermente più bassi, l'equilibrio 78 sarà che comunque il giocatore abbastanza piazzato fisicamente non è troppo un problema anche quando mi sono venuti a contrastare sto Bameyang reggeva abbastanza fisicamente, per quanto riguarda la forza 75 questo appunto sicuramente ha dato una mano. Vi dicevo dei playstyle ma soprattutto vi dico dei ruoli perché come ATT lui gioca come rapace, plus plus, attaccante avanzato plus e falso 9 plus, mentre come esterno destro gioca come esterno di centrocampo plus. Giocatore che io giocherei o con attaccante avanzato o con rapace assolutamente da punta, non lo giocherei da esterno per il discorso velocità e soprattutto perché non ha dei buoni passaggi, non ha neanche la quinta skill per guadagnare un po' di tempismo quando andiamo a cercare le nostre azioni offensive, un giocatore che se vogliamo come competitors ha secondo me tre giocatori su quella fascia di prezzo. Il primo è Inaki Williams che però ha un quattro skill tre piede debole senza grossi playstyle quindi onestamente tra i due io andrei più su Bameyang se cercate un giocatore con queste caratteristiche anche da super sub. Abbiamo il sempreverde Robby Keen nella sua versione base che però qui ha il pallonetto e non il powershot plus come la sua carta flashback che lo rende secondo me più performante e poi c'è il sempreverde Son che per 84.000 crediti è sempre un giocatore molto affidabile. Sbloccherei questo Bameyang, Nii, nel senso che secondo me non aggiunge e non toglie niente di che ha una vostra squadra, magari se vi può servire un attaccante con quelle caratteristiche lì ve lo sbloccate soprattutto magari se avete giocatori arabi in squadra. Veniamo però adesso all'altro giocatore SBC di cui voglio parlarvi all'interno di questo video che è Ruben Dias, giocatore il cui costo è più elevato, siamo più o meno sui 360.000 crediti, 1,87 di altezza, 3 skill e 4 di piede debole, giocatore che ovviamente oltre al DC non ha posizioni alternative. Per quanto riguarda il rendimento è un giocatore che trovo abbastanza veloce, è sicuramente aiutato sia dal suo stile di corsa ma soprattutto dal fatto che purtroppo gli attaccanti sappiamo bene che non vanno un gran che via in velocità, ha dei grandissimi passaggi in fase di uscita soprattutto perché c'è il driven pass e il tiki taka e questo aiuta tantissimo nonostante siano bianchi ad uscire da situazioni che potrebbero risultare molto spinose quando si tratta di dover disimpegnare il pallone. Inoltre una cosa che io ho amato di questo Ruben Dias è la sua reattività con l'L2, d'altra parte nonostante il 66 di agilità presenta un gigantesco 95 di reattività e questo lo aiuta tantissimo rendendolo meglio di altri difensori ma poi vi faccio lo spaccato e il confronto anche con gli altri. Abbiamo poi statistiche difensive che sono clamorose perché questo è un difensore molto automatico, 88 di intercetto, 91 di lettura, 89 di aggressività e 94 di forza sono parametri che insomma sono di assoluto rispetto per questo Ruben Dias. Inoltre un altro elemento che è molto importante è il suo playstyle perché il playstyle del bicipite dà una mano con le spallate della difesa avanzata che sono molto forti anche quest'anno. Mi dà un po' fastidio che non abbia nel blocco ma soprattutto neanche il procione bianco che avrebbe dato una gran mano e invece del powerheader avrei gradito chiaramente l'Aerial. Per quanto riguarda i ruoli presenta tutti quanti i ruoli almeno plus, difensore stopper e il regista difensivo plus plus. Io l'ho giocato con difensore e mi ci sono trovato molto bene. Giocatore che sbloccherei in questo caso sì ma lo andrei a posizionare all'interno della categoria di giocatori stile Van Dijk quindi quei giocatori magari un po' più fisici, un po' più automatici che non va a vedere nulla con giocatori stile Saliba, King eccetera che invece avendo il procione fanno totalmente un altro stile di gioco. Quindi piuttosto che andare su quel tipo di giocatore lì, lì andate a fare una coppia. Quindi Saliba, Ruben Dias ci sta benissimo come ad esempio ci sarebbe bene anche una Renard con questo Dias ma anche con Van Dijk stesso ci può star bene per avere due difensori molto rocciosi fisicamente. Quindi lui sicuramente più di Aubameyang mi è piaciuto. In questo caso lo stile d'intesa che vado a consigliare per Ruben Dias è Ombra mentre lo stile d'intesa che vado a consigliare per Aubameyang cercandolo un po' di velocizzare è sicuramente il motore. Bilancio se proprio devo dare dei voti un 7 e più per questo Aubameyang mentre abbiamo un 8 meno per Ruben Dias. Comunque diciamo che è il secondo più promosso del primo. Se ve lo volete sbloccare potete sbloccare anche Aubameyang magari in futuro c'è scena evoluzione che gli dà un 5 skill e lo rende ancora meglio. Ragazzoni per questo video è tutto. Io come al solito vi esorto a lasciare un bel like, iscrivervi al commento e commentare questo video facendomi sapere se avete provato questi giocatori, se li proverete e cosa ne pensate. Vi ricordo poi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola dalla mattina fino a primo pomeriggio e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un saluto ai vostri Beroschi e a presto. Ciao! Grazie! Grazie.